Volge al termine l'indimenticabile anno scolastico 2019-2020, domani ultimo giorno di scuola per gli studenti siciliani, già oggi per quelle scuole dove vige la cosiddetta settimana corta. Sicuramente una conclusione dell'anno scolastico che non ci si aspettava. Nessuna festicciola in classe e soprattutto nessuna recita per i bambini della primaria e per gli studenti della secondaria. Alcuni progetti avviati all'inizio del percorso scolastico sono stati ugualmente portati al termine in via telematica attraverso ad esempio dei prodotti video. Gli insegnanti hanno provato a supplire anche alla canonica foto di classe con uno screenshot dello schermo in cui compaiono tutti gli studenti collegati dalle loro case. Lo schermo, dopo mesi di didattica a distanza, continua ad essere infatti l'unico strumento che allo stesso tempo divide fisicamente e unisce telematicamente alunni e professori, anche nel caso delle scuole secondarie di primo grado, nel giorno degli esami. Per i ragazzi che concludono per intenderci la terza media, gli esami non si svolgeranno di presenza. Nessuna prova scritta e nemmeno l'interrogazione orale. Per loro è prevista solo la presentazione di una tesina, come definito da apposita ordinanza ministeriale, sempre attraverso piattaforme online. Al contrario, come ormai noto, al partire dal 17 giugno prenderanno il via fisicamente a scuola gli esami di Stato, seppur ridimensionati. E sul ritorno tra i banchi nelle ultime ore è tornata a dire la sua la ministra Lucia Azzolina. L'obiettivo, ha dichiarato, è portare tutti a scuola in presenza, con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo. Ministro che ha aggiunto di stare pensando di compartimentare i banchi, come fatto da altri paesi europei, attraverso pannelli di plexiglass, così da garantire la sicurezza tra gli alunni. I presidenti di ANCI e conferenze delle regioni, Stefano Bonaccini ed Antonio De Caro, hanno però sottolineato molte criticità, ponendo il problema delle risorse e del personale necessario per la riapertura nel rispetto delle prescrizioni indicate. A tal proposito, la ministra dell'istruzione Azzolina ha rassicurato di stare mobilitando risorse per oltre 4 miliardi e che ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l'edilizia scolastica leggera, ribadendo che l'obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma raggiungibile. Ritorno a scuola ha auspicato anche da tante famiglie, in particolare quelle composte da genitori lavoratori e più di un bambino, che hanno vissuto gli ultimi mesi dell'anno scolastico con forte stress. Tanti avranno tirato un sospiro di sollievo già oggi per la conclusione della didattica a distanza, nella speranza che tutto possa tornare a settembre come prima.